Sui fatti dei tifosi era sicuro che ci accompagnavano in tanti. Conosco la piazza e so che è il calore di loro e quindi sono sicuro che anche domani e anche domenica ci saranno in tanti. Quindi su questo non ho dubbi. Sul nostro esordio in campionato è positivo per la vittoria, volevamo tanto ottenere una vittoria. Non era facile soprattutto dal punto di vista mentale perché quando si inizia un campionato nuovo c'è sempre l'ansia di fare bene, di partire bene. Quindi al di là del rivale penso che non era una partita facile per questo ma penso che l'abbiamo reso facile noi facendo quello che dovevamo fare. Quindi lo ha detto il mister dopo la partita siamo un gruppo nuovo che stiamo lavorando da poco e credo che vincendo si può crescere ancora più velocemente. Deco, un altro approccio con la Serie B, come ti sembra questa Serie B? Hai incontrato una squadra che secondo te può fare testo oppure vieni per terra perché ci saranno interessati più osciti? Che te ti sei fatto? No, sinceramente sì, ancora non so bene quale sarà il livello, quindi bisogna aspettare magari fare ancora 5-6 partite e poi da lì avere più una comparazione con le altre squadre. Però noi intanto dobbiamo cercare di vincere tutte quelle partite che giochiamo sia Coppa Italia sia campionato sia amichevole. Quindi cercare di fare gruppo, di fare del gruppo e della mentalità le nostre forze e quindi questo passa tutto attraverso le vittorie e quindi quella è la cosa più importante in questo momento, in questo periodo di campionato. San Diego, il calcio è davvero strano, ti dà e ti toglie nel giro davvero di pochissimo tempo, sei passato, diciamo sei stato oggetto di critiche fino a qualche mese fa, poi quest'ardino nella nuova società invece fatto esplodere di gioia i difusi, sei stato considerato come un autentico leader e l'hai dimostrato subito sul campo. Sei un grandissimo uomo di esperienza, come hai vissuto questa alternanza di sentimenti anche nella stessa piazza? No tranquillo, ho una certa età e quindi mi assumo le critiche con tranquillità, sono anche critico, sono il primo che mi pongo delle domande, delle critiche quindi mi assumo quello che arriva e me lo assumo con tranquillità. So che c'è stato un periodo difficile l'anno scorso ma il calcio non ha tanta memoria sia per le cose buone che per le cose male, quindi c'è sempre un ripartire, ogni domenica si deve dimostrare. Quindi se uno fa bene una domenica poi la domenica dopo fa male non va bene, quindi ogni domenica bisogna dimostrare e poi io sinceramente ci tengo tanto a far bene in questo nuovo velino perché credo che la gente che è arrivata è gente seria e quindi anche sto diventando vecchio e quindi spero che in questi anni per venire possiamo arrivare di nuovo in alto. Si è il federato di questo gruppo, tornata alla partita domenica, è stato impressionante l'impatto dell'oppiante, è rimanciato? No, perché è difficile, però penso che loro si siano calato nella realtà dell'Avelino, hanno capito subito cosa vuol dire indossare la maglia verde col lupo e quindi abbiamo tanti under nella squadra, penso che più della metà dei giocatori sono under, quindi penso che loro devono far bene per loro stessi e poi per l'Avelino. Poi sicuramente avere degli under che ti fanno una prestazione come quella di domenica ti fa diventare ancora più facile la partita. Santiago, buonasera, volevo chiederti come, oltre a rivoluzione con Ikaidovski siete sembrati subito una propria solida e poi oltre il nona che avversario sarà l'Alba Longa che si dice è una delle formazioni più avversate che questo giro legge inserito? Sì, vabbè, con Vladimir è uno dei primi che è arrivato quando abbiamo iniziato il ritiro del turno, quindi magari ci conosciamo un po' di più, ma sono sicuro che ci sarà una partita che giocherà anche Dondoni, è entrato anche Urubanski che è un ragazzino ma ha tanta potenzialità, quindi non ho problemi in giocare con nessuno dei tre. Poi rispetto alla partita di domani, vediamo, sinceramente non sappiamo tanto, abbiamo visto qualcosina di cosa fanno, ma noi stiamo cercando di preparare la partita in base a quello che possiamo dare noi. Penso che se noi facciamo quello che sappiamo fare, quello che facciamo nell'allenamento, poi la partita può essere più agevolata. Rispetto alla partita di domenica, so tanto quanto te, l'Alba Longa, per quello che mi hanno detto, è una squadra che negli ultimi anni ha sempre lottato per i primi posti, quindi penso che sarà una squadra più tosta, più difficile di quella di domenica scorsa, che magari è una squadra che è salita adesso in Serie D. Sicuramente dopo la Coppa Italia andremo a vedere dei filmati e il mister darà più informazioni sull'Alba Longa. Intanto pensiamo a vincere questa partita qua con il Nola, perché come ti ho detto prima, se vincere aiuta a vincere, quindi per noi in questo periodo è fondamentale. Buonasera Santiago, vi sentite una squadra da primo posto? Cioè voi, di voi non conoscevamo il giro, le altre squadre, la facevamo prima, però voi in senso assoluto c'è una vittoria? No, sinceramente non mi sento una squadra da primo posto, sì mi sento un giocatore dell'Abellino e so che l'Abellino rappresenta qualcosa di importante e quindi questo sì ti dà una responsabilità, qualcosa che devi fare qualcosa in più. Poi sinceramente stiamo pensando partita dopo partita, penso che dopo 10-12 partite più o meno si inizierà a vedere che squadra siamo, se siamo per lottare sui primi posti e poi bisognerà aspettare fino almeno a dicembre per vedere dove siamo. Sì, te devo dire la mia, il gruppo è compatto, tiriamo tutti della stessa parte e poi ci sono giocatori importanti, quindi non so bene qual sarà il livello delle altre squadre, ma penso che noi possiamo dire la nostra. Ecco, Santiago, proprio a proposito di gruppo, noi facendo un piccolo passo indietro, c'eravamo soffermati qualche mese fa che il precedente gruppo era un gruppo solido, lo si vedeva anche nei primi allenamenti durante l'edito, tu facevi però parte di quel gruppo, invece con questo nuovo gruppo che ci sembra altrettanto affiarato, si parte indispensabile, soprattutto se è stato colui che ha cercato di cementificare questo gruppo e rafforzato. Poi ti chiedo una curiosità, se qualche tuo ex compagno si è fatto sentire con te, avvolandoti le migliori costume a trovare il vivo nel muore. Sì, sì, mi hanno chiamato, mi hanno mandato messaggi, non ti dico i nomi perché sennò poi iniziate a fare questo, questo l'ho chiamato, questo sì, sì, mi hanno chiamato. Rispetto al gruppo cambia tanto che ci sono tanti under, tanti ragazzi alla prima esperienza, in una, non posso dire professionista perché la Serie D non è professionista, a livello prima squadra, tanti che vengono dalla primavera, tanti che vengono magari che hanno fatto la Serie D, che magari non sono mai stati in una società come Avellino, quindi quella magari è la prima difficoltà, però penso che quelli più vecchi, più esperti, li stiamo facendo capire cosa vuol dire e quindi per loro è più facile adattarsi. Poi penso che loro si devono sentire tranquilli e correre e basta. Abbiamo noi la responsabilità, loro devono pensare solo a giocare calcio e divertirsi, la responsabilità è solo dai vecchi, siamo noi che dobbiamo tirare la barca. Santiago volevo chiederti, insomma dalla depressione dell'ultimo periodo che ha portato a parte di spedizione della Serie B, all'entusiasmo riprovato, è tutto proprio nel segno di quello che hai a spalla, questo logo che è tornato sulle maglie, quanto è stato importante questo simbolo che è più di un simbolo e poi tra la vecchia e la nuova proprietà, il mondo per fare colegica, ma cosa è cambiato sui tuoi vissuti in trame le esperienze? Guarda, è ancora presto per dire questo, so che la nuova società sta lavorando tanto, io me ne accorgo soprattutto perché io sono arrivato dopo una settimana quasi di lavoro, magari c'erano poche cose a disposizione, ma ora piano piano tutto sta andando per il verso giusto, poi per quello che sto vedendo è gente seria che vuole fare bene, e quindi quello a noi ci dà tranquillità ed è importante, penso che anche i tifosi vedano queste cose, oggi per quello che ho sentito c'era la coda al botechino, quindi penso che si sta creando qualcosa di importante, poi dobbiamo essere bravi noi a riportare la gente allo stadio, penso che noi come squadra dobbiamo cercare di trasmettere qualcosa per fare così che la gente ci tenga alla squadra e ci tenga a tifare per noi. Sul logo è una cosa spettacolare, parlavo con i magazzinieri prima della partita e le chiedeva questa cosa qua e lui mi diceva, guarda, penso che giocheremo senza niente, poi il giorno prima mi ha detto, guarda, amore, che hanno fatto tutto a posto, quindi il lupo è il nostro segno, quindi è una cosa importantissima, portare il lupo, penso che è dei tifosi, ma lo sentiamo anche noi. L'ultima domanda, Santi. Tu sei abituato chiaramente all'effetto del partenere un banco, siamo un partenere un banco un po' diverso, senza i tabelloni pubblicitari, però l'effetto che può fare, soprattutto per i giovani, che al calcare domani sera, domando in Sinterino? Ma su questa cosa ci scassiamo un po' perché io, dai, è vero che ci sono tanti che magari non hanno mai giocato con tanto pubblico, ma penso che loro saranno carichi e preparati. È un discorso che tutti mi chiedono, magari da quando sono arrivato, tutti mi dicono, ma quanti vengono, quanti... guarda che se andiamo qua, se facciamo bene, giochiamo con tanta gente. E quindi penso che la prenderanno bene, non sentiranno pressione. Penso che questo sarà una spinta in più, come sempre è stato. Casomai sarà dura per gli altri che vengono qua a giocare, si vedono il muro verde lì dietro alla porta. Quindi questo deve essere un vantaggio. Per noi giocare con più gente possibile, penso che per un calciatore è la cosa più bella. Quindi penso che se noi trasmettiamo qualcosa di importante, se moriamo su ogni palone, penso che poi la gente questo lo vede e ci accompagnerà per tutto il campionato.